Ciao ragazzi e benvenuti a questo nuovo video, sono Biloni.23 ed oggi siamo in compagnia di Jordan Qui vedete, fai ciao, saluta Ah bravo, benissimo Allora lui è uno dei miei amici con cui farò lo speciale su Halloween che uscirà il 31 Uscirà C'è mio fratello che mi chiede dove sta la palla E a me che mi frega No dai, Leonardo ti prego, dai saluta, 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 saluta Benissimo, sto guardando, sto facendo The Forest che però purtroppo oggi non posso farvi vedere Perché sto facendo, sto girando il video con il tablet Vai via, vai via, non si è ammesso nei miei video Praticamente Jordan adesso sta ridendo Vedete quello lì? Quello lì lo vedete? Non so guardate Scusate eh, se vi zoom un attimo a tutto Si vede la foto sgranata Vabbè non si vede bene Però vabbè qui si vede bene Adesso Ehm Ma se C'è Vedete questa webcam? La vedete? Questa qui è da dove ci vediamo io quel scemotto lì Jordan mi vedi? Adesso che vedi? Oddio Vabbè lasciamo sta dai già Ehm Vabbè Comunque Vi continuo a dire che Oh cavolo Scusate un attimo Seguitemi Aspetta Gio Seguitemi Venite con me Ci spostiamo un attimo Perché penso se si è staccato Era quello che pensavo Era quel che pensavo bellissimo Bene bene Ok Ok Bene Adesso Jordan Dovrebbe sentirmi meglio Già Mi senti? Oh Allora Ciao Senti Senti? Meglio? Ok Adesso? Adesso? Ok ok No Perché Evit No Allora Non sei rimosso dal gruppo Solo dalla convers... Leonardo Ho detto che lì Non ci puoi salire Lei mi prendi quel pinguino lì? Eh? Sì Quello lì Dammelo Dammi Dammi quel pinguino Che mi frega Ragazzi Volevo farvi una sfida Sì Stai zitto Eh Se riesco a fare Tutto il video Con la zampa del pinguino In bocca Sono il genio dei geni Pronti? Pronti? Via Fa schifo Fa schifo Sì Why Sono il genio dei geni wrong Tronti? Sì Cercami Sì Cercami un attimo mi sa mi si è cascato non ce la faccio ad aggiungerti ma non ci riesco mi sta implorando di aggiungerlo al gruppo ma io non ci riesco so come si fa no ma quale gruppo sarebbe scusa ma mo due addirittura aspetta ti do 5 minuti per spegnere tutto d'accordo eh niente va bene ragazzi questo video si conclude qui vi ricordo il 31 uscirà lo speciale su Halloween andremo a fare gli scherzi ai vicini sarà una cosa tremenda guardate lì saluta Jordan saluta quelli che ci vedono questo video come sapete si conclude qui se non siete ancora iscritti iscrivetevi e noi ci arriviamo al prossimo video lasciate un mi piace sulla pagina anche sulla pagina di Facebook che come in ogni video trovate in descrizione se non siete ancora iscritti iscrivetevi e noi ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi grazie a tutti